ragazzi ha segnato belotti e prima ha sfiorato un gran gol stanotte non so se pioverà però succederà qualcosa perché oggi abbiamo visto un gallo rigenerato sarà che stanno dicendo tutti che deve andare via non lo so però fino ad oggi è l'unico attaccante che abbiamo perché è svanito morata svanito scamacca adesso stanno cercando di prendere marcos leonardo oppure arnautovic non lo so comunque sta di fatto che con abram rotto insieme a dibala abbiamo soltanto il gallo belotti che oggi abbiamo visto in splendida splendida forma non riesco neanche a parlare perché mi sto emozionando a parlare di belotti ragazzi non l'ho mai visto come stasera anche se è un amichevole lascia il tempo che trova ma intanto fatevi salutare un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli enrico caffarelli devo andare a dormire perché non ce la faccio più a parlare vi invito a supportare questo video con un bel like ad iscrivervi al canale se ancora non avete fatto ad attivare la campanellina campanellina niente stasera non ci riesco delle notifiche per seguire tutti i miei video e a seguirmi su instagram link in descrizione ragazzi la partita sta per terminare oggi ho rivisto una buona roma già contro la squadra precedente avevo notato che la squadra di morigno ecco il gol 4 a 1 della roma ragazzi 4 a 1 ero un po distratto sul 4 a 1 in live è quello che confermo quello che sto dicendo vedo la roma in forma la vedo anche dal punto di vista del gioco delle delle dello schema tattico delle fasi di appunto di transizioni ottimali ecco adesso il gol se non se non sbaglio è stato fatto da ah no un altro autogol secondo autogol però va l'importante che la palla va dentro a proposito di autogol quello di christensen è stato clamoroso l'ha appoggiata l'ha messa proprio all'angoletto e rupe trisio non poteva fare nulla per il gol del 4 a 1 del della farense o del farense come dirsi voglia è una squadra della liga portugais della liga portugais e quindi è un avversario attendibile è stata partita vera e gli avversari avevano un pubblico sugli sparti che ti favano pure abbastanza erano rumorosi quindi la roma anche oggi dopo sbari dopo quattro amichevoli la rivedo in modo positivo questo mi fa ben sperare però se vogliamo tornare sul fatto dell'attaccante diciamo che è la nota anomala di questi giorni che purtroppo non riusciamo ancora a venirne a capo speriamo al più presto che pinto ci porti a trigoria quella punta che ci serve come il pane da mettere titolare perché belotti a parte questa sera ragazzi che stavo scherzando inizialmente secondo me non è affidabile ma secondo anche voi secondo anche murigno e poi magari ci potrà mi potrà contraddire per carità sarà sarà l'uomo più felice di questo mondo però secondo me non sarà così e dal punto di vista del gioco la roma vedo che sta migliorando anche la fase di costruzione prima lanciavano sempre lungo su apram adesso non c'è se è fatto male il centravanti inglese e quindi il gioco deve partire necessariamente da dietro perché belotti anche essendo forte fisicamente che gol della farenze ragazzi mentre sto facendo questo video stanno segnando un gol incredibile sotto al set lui patricio non poteva fare nulla e questa partita è stata bella anche per quanto riguarda i gol non ci non ci siamo annoiati abbiamo visto svariati i reti vediamolo un po in replay ecco sulla fascia siamo stati un po un po troppo leggerini come al solito facciamo andare gli avversari come se nulla fosse poi questo ha segnato sì un grande dico questo perché non ho capito chi chi sia ha tirato una gran botta però davanti non c'era non c'era nessuno che lo contrastava e quindi ha potuto sperare questo questo bolide che è andato a finire sotto al set quindi ragazzi la roma anche questa sera l'ho vista molto molto bene è un buon campanello non d'allarme ma positivo per quanto riguarda l'inizio di questo campionato però non voglio essere monotono non voglio essere rompiscatole pinto mio portaci a casa questa punta però che non sia di ripiego che sia un calciatore che vuole soprattutto morigno che ci faccia fare quel piccolo saltino di qualità la davanti e che possa essere propositiva anche per quanto riguarda un eventuale piazzamento sempre sleghe perché girù oggi ha detto che la roma la vede anche lei tra le papabili vittori probabili vittorio vittoriosi vittoriosa del campionato io gli dico girù mio con tutto il bene che te voglio ne potevi dire un'altra di ne potevi dire un altro di spondone perché la roma vincente per il campionato per il campionato non la vedo proprio anche se sarei andrei sulla luna e tornerei giù anzi non tornerei più mi metterei sulla luna a sventolare i vessilli giallorossi se fosse così purtroppo credo che la roma insomma parta per poter ambire ad un ipotetico posto champions già sarebbe un grandissimo traguardo con questo mercatino come dice murigno lascia like a questo video scusami se sto se ho parlato un pochettino male ma sono stanco devo andare a riposarmi perché domattina mi alzo presto per andare a travagliare a lavorare perché youtube è un hobby per me va bene finisce qua questo video lascia un like per supportarlo iscriviti al canale attiva la campanellina e seguimi su instagram link in descrizione ciao e forza magica roma